Lorenzo difesa inedita, quasi difficili sarebbero arrivati anche oggi e poi c'è stato il gol della Trestina. Sì, c'è un po' di rammarico perché la partita comunque l'abbiamo preparata bene in settimana e l'abbiamo affrontata bene in questi 90 minuti. Purtroppo contro una squadra forte, perché la Trestina è una squadra forte, bisogna stare sul pezzo 95 minuti. E' una piccola disattenzione, cioè c'è cosa attaccare, però testa alta e andiamo avanti in queste ultime due gare. Tornare in campo al primo minuto con tutti questi minuti sulle spalle in una giornata con 40 gradi, sembrava. E' stato, come ti senti? Ora stanco, però soddisfatto della mia prestazione e anche il fisico ha risposto bene, ovviamente mi preparo sempre bene in settimana per cercare di farmi trovare pronto e sono contento. Mancano due partite per riuscire a trovare i punti necessari per questo prego. Sì, ma adesso non so bene la classifica come siamo messi in classifica, so che siamo dentro, manca qualche punto per la matematica. Affrontiamo queste due partite con la stessa intensità con cui abbiamo affrontato tutto il campionato e alla fine tireremo una riga per vedere dove siamo arrivati.